Sì, stanno dormendo tutti. Perché tutti a differenza nostra dal mondo urbale? Tutti dormono, tutti dormono. Anche gli ascensori dormono. Sono le 6.30. Siamo svegli dalle 5 del mattino. Abbiamo dormito due ore. La prima delle 5 del mattino, a dire il vero. Solo che abbiamo dormito due ore. Ma vado direttamente a vedere se hai aperto la colazione. Se ne me ne anticipo. Grazie a Dio per aver inventato la colazione. Ciao, buongiorno. E dove eravamo ieri? Poche ore fa. C'è sempre Audrey Ebony, fantastico. Hai visto che meraviglia? Scegliamo prima il tavolo. Divanetto. Questi piatti sono bellissimi. Questo penso sia per fare l'omelette. Piatti asiatici. Noodles. Ci sono delle cose buonissime. Anche io ho fome. E qua? Uh, il daikon. Tofu miso. Qua ci sono i dolci. Formaggi. Salmone affumicato. Formaggio di capra. Colazione di ieri che è stata nuova al chiusino e adesso mi ammazzo. Anche io adesso mi ammazzo. Anche perché dobbiamo avere energie per oggi. Anche questa insalata. Questi sono succhi di frutta, sì. Guava. Guava. Cos'è per il muesli. Cereali. E quest'altra parte, vediamo. Siamo solo noi. Salsicce. Bencon. Questo deve essere tipo pane. Indiano. Non lo so. Chicken curry. Riso. Un sacco di cose salate. Qua cosa c'è? Oh, Andrea impazzirà quando vedrà questi ravioli. Pane, marmellatta, nutella. Primo piatto andiamo dissalato. A quello che hai preso tu ho aggiunto i funghi, salsiccia e bacon. Apre tra mezz'ora a Starbucks. Facciamo un genere. Allora, siccome non abbiamo internet non avrebbe neanche tanto senso farlo perché siamo qua pochissimi giorni. Andrea, che dovrà andare in giro oggi a esplorare un po' la città a vedere. Esplorazione. Esatto. La pre-esplorazione prima di fare le maratone insieme. Non so come farà senza internet. Forse qua c'è un po' ovunque. Credo. Singapore dovrebbe esserci internet un po' ovunque. Non si vedono quei grattacieli là? Hey tu cameraman. Non si vedono? Help. Giro. Eh, non si vedono. Eh sì, un po' si vedono meglio adesso. Di qua, di qua. Ci siamo passati in macchina. Ah ecco, è vero. Quello è l'hotel che abbiamo visto ieri in taxi. Che ci hanno detto che è l'hotel più antico. Meglio come sto andando in giro per singolo. Non so come vedere se va. Sono le sette del mattino e si sta veramente, veramente bene. Fa caldo. È quel caldo. Le sette del mattino quando porto fuori i cani poverina c'è Olivia che si rifiuta di camminare perché fa freddo. Allora, questo me lo ricordo. Abbiamo girato di là quindi Starbucks è di qua. Sembra esserci anche una fantastica giornata oggi. È il contrario delle previsioni. Sì. Le previsioni dicevano pioggia, tempo grigio per tutti i giorni che eravamo qua. E oggi sembra una grissima giornata. Questa è la protesta. Questo? Sì, questo qua. Sì. Allora, la ricerca del bicchierone di matcha perché sarà la mia unica salvezza oggi. In realtà ho preso in considerazione anche qualche altra soluzione. Uno, cercare sosia. Due, scappare. Tre, qual'era la terza soluzione? Ah, andare alle ricerche della miglior bevanda energizzante la miglior bevanda energizzante che io conosca. E matcha, quindi bastare di aprite subito. come no? Sì, Stellina? È il migliore. Sì, amore. Io non vorrei dire, ma Giuseppe mi sa che è ora di andare. Devi andare. Sta troppo bene qua. Col sole. E il suo matcha. Sai di cosa sono capace io? Di rovesciarmelo solo a ricerca? Sì, come ieri, vero? Oh, oh. Non ci crederebbe. Non ci credo neanche io. Adesso ho nato nell'arma a incendio e dobbiamo uscire perché avremo di abbandonare l'edificio. Siamo solo noi. E le altre sono due usciti. Non possiamo prendere l'ascensore perché devono mettere l'ascensore in qualche casa. C'è solo qualcosa. E se è così o me? Mi amore tanto. E c'è la signora che pulisce? Ti continui a pulire. Oggi ci saranno solo due eventi. Sia in mattinata che in poverigio un po' in hotel e un po' in giro per la città. Hanno allestito questo tavolo. Oggi sarà una dottoressa anche. Questo è il mio posticcino. Penso che ci faranno creare qualche prodotto, qualche siero perché questo dovrebbe essere il prodotto principale della linea e si può praticamente personalizzare. quindi basta il tipo di pelle alle quelle gente e scegli come fare il prodotto. Siamo qui con tutte le altre ragazze e stiamo facendo la pausa pranzo. È arrivato il piatto. Andrea è arrivato il piatto a base di pesce. Sì, abbiamo qua del sashimi proprio chiamarei di salone. Questa invece è una tartare con sopra del caviale. Wow. E poi un'insalatina con della rucola. E la birra. No, è più rossa, più rossa. È buona la birra qua. Ho preso quella giapponese, la asacca. Oh. Questo è il mio piatto. Sono frutti di mare. Mi ricordo queste altre cose. Comunque sembra buono. Tutto a base di pesce. Questo è il vento. Andiamo a fare il ruotamento per il fiso. Buonanotte. Buonasera. Che dire? Ragazzo fortunato. Sì. Andrea è riuscito a dormire. Io ho un tanto. Direi pochissimo, 10 minuti. Tra 40 minuti io dovrei essere tutta vestita e truccata nel modo giusto per un cocktail party. Questo dovrebbe essere pronto. Tra 40 minuti. E dovrei anche cenare. Io sto qua. Ho andato alla cena. Faccio vedere cosa è arrivato per cena. Sono corso letteralmente fuori stamattina. Non abbiamo avuto né modo. l'energia per mettere a posto. Allora. Hanno portato questo champagne. Com'è che si pronuncia? Non lo so. Lei è il numeratore. Moët and Chantone. Moët e Chantone? Sì. Moët. Moët. Sì. Moët. È francese, sì. Non ne capisco molto io di alcol. Però si hanno portato questi due bicchierini con champagne. Succo di mango. È un po' di salse perché la cena consiste e Andrea ti devi svegliare perché abbiamo 40 minuti per vestirci, cenare ed andare su. Ragazzo mi fa impazzire. Questa è la cena. Vediamo se non rovescio tutto se riuscirà a vedere qualcosa. Eccola qui. Si chiama... Dove lo metto? Oh mio Dio. Eccola qua. Questa è la cena. Fatatine fritte e club sandwich. Alzati, subito. Outfit for the night. Outfit for the party. Outfit for the party. Spacco. La cena non era quella ideale per un vestito stretto, ma va bene. Basta... Basta trattenerla a pancia. Pancia in dentro. Così. Piatto. Piatto, vera come... Basta. Questi sandali sono di Zara e questo vestito sarà costato tipo 15 euro perché l'ho preso da Telly Welly. Vero? Da Telly Welly. È un semplicissimo vestito di cotone. Sembra, fa un po' di scena giusto perché ha questi due spalchi, ma super economico. È quello che deve fare. Quindi, vedi questo vestito in realtà. Dolce Cavalli. Questo è di Cavalli. Questo è di Cavalli. No, perché Cavalli è fattito animali. Non ci crede nessuno. La collezione Dark di Cavalli. La nuova collezione io posso provare in anteprima. Sì, ma non l'avete ancora vista? Ce l'abbiamo solo in Italia. Sì. Devo prendere il giubbino. Oh, thank you. No, no. È bastato il servizio fotografico con lei. Voglio assolutamente farvi vedere questa cosa pazzesca. A parte è bellissima, vero? A parte la vista. Hi! C'è questa piscina che sembra un po' un infinity pool. dice quella poltroncina dove ho fatto qualche foto non resistita perché è troppo bella con lo sfondo così con tutta la città. Ma che spettacolo è! E tu ti fai il bagno così con questa vista. Andrea? Non ho sugli occhiali! Non ho sugli occhiali! No, 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 no! Ma che non ho fatto l'ultimo il mondo! E mi ha già fatto l'ultimo il mondo! Sì! Non ho fatto l'ultimo il mondo! Non ho fatto l'ultimo il mondo! Ma non ho fatto l'ultimo! Pianto, di commozione, a volte mi chiedo realmente se io sia incinta Però succede talmente tanto spesso che non puoi essere incinta Praticamente c'è la, non la proprietaria, come si può dire, la fondatrice Ha fatto un discorso adesso prima dell'apertura, della serata Tipo appunto lei, una piccola ragazza asiatica, perché piccolina, menuta, hi Si è arrivata ad avere successo anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo Perché è un marchio che ha venduto online in due secondi 3 milioni di prodotti E' un super... non so perché Quando raccontava della sua storia, sì Quando raccontava della sua storia, no? Perché poi anche quella che parla, si è commossa Si è commossa Tutto ok? Tutto bene? Io sì Sono soltanto poca, Dio Ma tutto bene lo so perché? È che lei in particolare mi ha colpito tantissimo Dalla prima volta che l'ho incontrata qua Perché è una donna... le ho vedi subito, è la prima volta Che è una donna molto forte, con un carattere... come posso spiegarlo? Aiutami tu Bellissimo vedere che... delle donne con un carattere così forte E si fanno di tutto per realizzare il sogno Che è poco sulla cosa? Io sono molto solo lasciata... Cioè mi ha commossa, diciamoci la verità, non è che mi ha commossa Sei scoppiata a piangere A piangere, ma va bene Siamo trovati un attimo in camera a lasciare giù le cosine Adesso torniamoci in piscina perché c'è ancora tutta la festa Si fa Baldoria stasera Ho chiamato? Aspetta che vado a chiamare Perché? Cosa dobbiamo dire? Ah, già, già, già Non hanno potuto pulircela oggi E stanno pulendo un po' di camera adesso Se riescono a pulire anche la nostra È il mosso tipicamente italiano Sì, sì, sembra... È che qua fa veramente caldo E c'è un sacco, un sacco di umidità È iniziata la stagione delle piagge È iniziata la stagione delle piagge Quindi è un sacco di umidità E i capelli diventano un disastro E io non riesco mai a spiegarmi in queste occasioni Come diavolo facciano Lo so che non sono problemi... Non sono problemi questi Però come diavolo facciano certe ragazze Quelle che sono qui presenti Hanno i capelli perfetti Perfetti! Sì, ho piastrati, ho amici Con la loro piega Con la loro piega perfetta Ma se li sono rovinati paramente Non è stato tutto questo... Sai cos'è? È che non sono sfigati come te Esatto Cioè, bisogna accettare il fatto che Qualcuno di me ha sfigato È meraviglioso Come noi abbiamo tutta la giornata libera Andremo in giro per Singapore A vedere un po' la città No no, grazie Grazie Quindi sono troppo contenta Perché non ho potuto vedere ancora niente della città Se non lo skyline così la sera O oggi scottandoci in città Ma con la macchina Però della città non ho visto proprio niente Quindi sono perdendo tutti Che strano perché qua sono... Ci sono tante cose Questo è il cioccolato 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 Wow! Tipo vitamina C Vitamina A Aquirizia Acido Ialuronico Loro mettono insieme tutti questi ingredienti E creano il tuo siero personalizzato Quindi poi hai il prodotto finale Sezione dolci Allora incominciamo Io parto con questo E poi aggiungerei questo O quello Io partirei con questo qua Che tipo che cosa sarà? Quello è mango Anche secondo me è mango Pesca Comunque qualcosa di fruttoso Vediamo Panna cotta con un pezzo di croccante Wow! Buono! I tortini di cioccolato Pizzetta Mousse di cioccolato E questo è tipo Com'è che si dice in francese? Eclat Questi dolcetti qua Ah si? Mi sa qui di me? Di dolci sicuramente E' molto tardi E c'è una cosa molto preoccupante Che non ho ancora sonno Giuro Se stanotte non dormo Dopo una giornata Come quella di oggi E due ore di sonno Prenderò la tranquillante per cavallo Non c'è bisogno di tranquillante Che vuol dire che nulla può funzionare Abbiamo ancora la boccia di Moë E' vero Il frigorifero Ma non mi piace l'alcol E' vero Perché il tranquillante è buono Oh mio Dio Che la camicia lì Guarda l'italiano sexy caliente Passionale Pen 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 No amor ti prego Questo era l'ultimo evento Domani quindi abbiamo la giornata intera Tutta quanta libera Quindi Tra noi e Singapore Per tutte le nostre Esatto Io, Andrea e Singapore E tutte le nostre maratone Però Sono E' stata una bellissima esperienza Sono felice di Di aver accettato di far parte della cosa Anche perché Mi sono sentita trattare come una principessa Sì Veramente Da quando siamo partiti dall'Italia Tutti sono stati troppo dolci Il trattamento L'accoglienza in aeroporto L'accoglienza in aeroporto Sembra Realmente Come ha detto Andrea Quando siamo arrivati Della serie Aspetta un attimo Devo aver vinto qualcosa Devo aver vinto qualcosa Perché è tutto così Super Tutto così principesco No? Quindi E' stata una bella esperienza Gli hanno dato anche Un po' di regalini Da portare a casa Di prodotti Non ho ancora visto niente Perché siamo appena entrati in camera Stasera ha fatto innamorare Get perfect Get glow Completamente ubriaco Ubriaco Marcio Proprio a non capire neanche Dove si trovasse Cosa stesse facendo Come si chiamasse Completamente ubriaco Stava completamente Dando i numeri Diceva delle cose fuori Completamente innamorato di te Sì Che veniva a dirlo anche a me Era ubriaco Sì però Era almeno sincero I complimenti di un ubriaco Prima è venuto da me A farmi i complimenti per te Poi quando ha finito con me E' passata a te direttamente Sì Sussurandomeli all'orecchio You're amazing Ok Era il Come si chiama Era il general manager dell'hotel Comunicazioni di servizio Ai vari eventi mi chiedevano Ma dove è il tuo fidanzato? Perché Gli altri fidanzati che c'erano Erano lì no? Andrea ha pensato bene di svignolo solo E quando ha visto Andrea Sei sincero Quante persone ti hanno detto in questi giorni Che sei un ragazzo Che sei un fidanzato fortunato Moltissimo eh Devo dire Tu hai incontrato me e hai detto Sei un ragazzo veramente fortunato Per la fidanzata che hai Bla 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 No bla 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 Cosa vuol dire? Hanno detto delle cose ben precise Tu lo sai Perché non conoscono il sottoscritto Se conoscessero sottoscritto Verrebbero da te a dire Saprebbero che sei un santo Esatto Vediamo Se riesco a farvele vedere I due hanno rossetto i miei baffi Ah i due hanno i baffi Sì i miei hanno i baffi E le avevo ancora viste Quindi proprio sono da uomo e da donna Queste devo assolutamente prenderle Non ho mai avuto delle ciabatte Con le labbra così Non trovi le tue perché chissà dove le hai messe Le hanno portate via Oh mio Dio no No Ma io glielo chiedo eh Non ci sono Non mi hanno portato via la ciabatte davvero Buonanotte da questa meraviglia qua dietro di me Buonanotte da Andrew Da questa meraviglia Da questa bellissima meraviglia Dolcissima meraviglia Buonanotte si basta Andiamo a dormire Anzi mi devo togliere l'express Togliere il trucco Mettermi il pigiama E cercare di dormire Perché domani voglio Voglio guardarmi bene in Singapore Ci vediamo domani Sei completamente pazza Ciao